Partita questa finale junior basket 10.000 metri eliminazione Un rumbo che si muove per il momento compatto Bisogna stare a vedere in questa fase di tutto sempre a caso Grazie a tutti. 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 di meno 3 e dell'atleta 399 a dover abbandonare il percorso, eliminazione di meno 2, dell'atleta numero 419 a dover essere eliminato e siamo all'ultima diviazione sul prossimo fissaggio Martin Feo Verletti, ultima diviazione, campanella dell'ultimo giro e 212 eliminato, Ceola, Bulla e Balini e si parte alla ricerca della nuova condizione e quindi Balini a passare per gli esterni e portassi alla testa della gara e nel corno di questo prevarlo